Allora ragazzi siamo crewmate e c'è anche la possibilità che ci sia un giullare cioè colui che deve fare finta di farsi ammazzare E probabilmente ci potrebbero essere delle persone che vogliono farsi assolutamente ammazzare In che senso? Nel senso che tu in questa modalità oltre ad avere la mappa specchiata che già non si capisce una sega Ci sono persone Anzi una, una sola Che l'obiettivo è farsi uccidere Se qualcuno lo ammazza la partita finisce Il gesto si chiama così Non lo sappiamo, non ho mai fatto questa modalità Sono un po' arretrato sulle nuove modalità moddate di Among Us Però è sempre bello scoprirle Mi sento un vecchio Che tenta di giocare i videogiochi Molto divertente Sicchio che fa O2 Ok, è morto qualcuno Raga, sa che abbiamo già il nostro primo impostore Signor Nico punto Nooo Ecco Era impossibile, raga, era impossibile Cosa succede qui? Cosa vedo? Me ne vado e basta Va bene Non ho capito niente di quello che ho visto Vedo due che stanno vicino a un corpo Non sto capendo Andiamo avanti ragazzi Allora È una situazione abbastanza problematica Vista così Però di sicuro non posso Non ho capito cosa stava succedendo Credo che Kenoya sia il Jaster Aspetta che ripasso un attimo di là ragazzi Perché la cosa è veramente sas Vediamo Cos'è? Ma cosa diamo lo stiamo facendo? Siamo tutti sul corpo Di lasciarlo qui Vabbè Ma sì anch'io dai Vai ok a posto Vabbè a posto Nessuno l'ha cagato Bellissi Queste sono le cose che gli piace Nessuno fa una mazza di niente Tutti disinteressati totalmente Che poi l'unico L'unico che l'avrà ucciso Non era tra di noi sicuro Perché se ammazzi qualcuno Difficile che ci stai vicino No bellissima come cosa Tanto gli altri non si sono neanche accorti Che stavano facendo tutto ciò Ma secondo me è Marci raga Marci perché era l'unico che non era lì Sicuro Non era nessuno di loro Che figata raga sta cosa Vediamo se ci sono altri corpi in giro Se no va bene così Io ho finito le mie tasche Non so gli altri a quanto stanno Ma porca vacca siete lenti come la morte Oh c'è roba Non mi ammazzare Ti prego E via Ecco Qualcuno l'ha riportato Vediamo Ma no raga Signor Xiao Signor Xiao Ma dove era? Ma dove era? Dove scusa? Ma veramente? Io nessuno l'aveva visto Ma cavolo com'è possibile? No ci sono passato adesso In Upper Engine Non c'è Ma sul serio? Non lo so Strano Vabbè Marci Ok boh Credo che sia Marci 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 Se mi votate sappiate che quinto la partita Ti spiego Marci Diciamo che c'è stata una riunione Durata molto tempo Il cadavere di Xiao Gli hanno fatto un po' le macumbe Ah ecco Sono stati tutti noi quattro a vedere l'urcale Per due ore Io voto a caso Voto a caso Votiamo tutti a caso Io mi sono autovotato È vero che il pagliaccio può essere anche morto Ovviamente Esatto Esatto Mamma mia ragazzi Eh no sei morto Ah ok Ma se lo ammazzi non succede niente Sì se lo ammazza di un posto Non succede niente Ovviamente il pagliaccio può autovotarsi Anche Ah Potrebbe essere anche Vessicchio il pagliaccio Sarà giocata benissimo Non lo so ragazzi Qua conviene fare meeting Perché tanto non lo buttiamo fuori Sennò Quindi io ho finito le task Meeting Yes Dicci l'ora Ma No niente Mi piace il gelato Non è marci E quindi Però che noia roba Vessicchio No No Io non potrei a caso Cioè bisogna essere veramente certi È Vessicchio Raga Vessicchio Mi sa che è il pagliaccio È Vessicchio No basta raga giochiamo dai Fate ste missioni Quante ne marci Eh lo fate che faccio Vado in giro Non vale se perdiamo così Non si impegnano Madonna quanto odio questa task Santo addio È orribile Due ore È che Assembramenti Allora Ma cos'è sta roba qua Vessicchio sta lì Che fa le task Che l'ha finita E intanto sta a fare shields Certo Cosa ha finito di task Che sta a fare shield Maledetto Che noia Mannaggia Raga Favij me l'ha ucciso davanti No 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 Favi Favi dimmi Io avevo già Io penso di non poter neanche Io posso anche non dire niente Penso che tu ci arrivi Posso arrivare la sua Esatto No raga Me l'ha ucciso davanti Raga Me l'ha ucciso davanti Marti sei una cattiva Imposterice Me l'ha ucciso davanti Cos'è Ormai abbiamo votato già tutti Basta 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 Sto storia Basta Mi dispiace Vessicchio per la call di prima No che poi sono pari È un casino Lascia stare Per il potere degli indiani Per il potere degli indiani Vota Marti Allora Allora ascolta un attimo Ascolta Fai sto ragionamento Se tu voti me Quindi siamo due due Poi abbiamo perso Se si chiudete Abbiamo perso comunque Perché poi che noia Fa quello che vuole Se voti che noia Ed esce che noia E non è impostore Ma ti assicuro Che è impostore E poi ancora c'è il tempo Che ragionamento stai facendo Cioè Potrebbe succedere la stessa cosa Sto diventando E vai Schip Schip Ok Puoi schipare Raga abbiamo perso Mannaggia Devo provare a dribblare il tavolo Devo provare a dribblare il tavolo Devo provare No Mannaggia Il cacchio Scusate Lo smetto Eh niente È perso Raga Deve sei Mannaggia Non è persa Non è persa Non è persa No Martina È rotto Martina è rotto Sei tu Ero io Mi sono ammazzato da solo Ma che partita Ma che Ma cosa Allora Il discorso è che Siamo partiti Che Marci voleva essere impostore Ma non è impostore Mi ha fatto troppo ridere questa cosa Perché lo sono io per una volta Mi scusa Allora Battista a destra Che noia Rob Tutto il resto Un casino Vero Aiuto Aiuto Sabotiamo Meno male Che la mappa è dritta Stavolta non famo casini Sabotiamo Electrical Ok Non posso ammazzare Nico punto Perché sennò è un casino Ok È difficile perché non riesco a fare la prima kill La prima è molto importante Che noia sta là Vediamo se riesco a ammazzare che noia Ok Vento Voglio rimanere nell'evento C'ho paura che la gente mi trovi Ok Ma la porta è chiusa qua Ah era chiusa la porta Ok Adesso esco Va bene Vado Vediamo Adesso le porto che noia Ok Le porto io che noia Ehm In Adesso è tutto normale Che al sinistra c'è La react No Quella dove c'è il memory Come cacchio si chiama Il react Ok Dobbiamo per forza dare un voto Non lo so Ma avete detto voi Ma avete detto voi Votate uno All'inizio Va bene Dobbiamo fare un'altra kill Sì siamo in otto ragazzi Perché dovrebbe esserci anche un gesture Teoricamente che non c'è Allora io aspetto Vado avanti Buddy che cammina a rilento Fa troppo ridere Basta fare una doppia raga Basta fare una doppia Ed è fatta Basta fare la doppia Dato l'ado da Buddy Vediamo se c'è ancora da solo Se è ancora da solo Posso provare a uscire Ok Buddy non è qua Perché chi è Buddy? L'ho visto passare prima No niente Ok Abbiamo vinto per scelta Madonna stavo tornando indietro Madonna Che pare Insomma Partitone Partitone è incredibile Partitone è incredibile